Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, sono Manuel di TuttoFumetto e come sapete se siete su questo canale o se è la prima volta che vedete un mio video ve lo ripeto, io faccio video solo per il puro gusto di discutere e parlare di fumetti, perché mi piace leggere fumetti, è una passione che ho da una vita, faccio collezioni di varie serie, compro fumetti a caso, e per tutti questi motivi, e anche per il fatto che mi rendo conto che il fumetto a volte è considerato un'arte di serie B, è considerato non al pari della letteratura, non al pari della televisione, non al pari di cose che secondo me a volte sono anche sotto, per cui secondo me, per quello che mi piace a me, ho insomma deciso di aprire questo canale per recensire fumetti, perché piace a me ovviamente, mi diverte farlo e mi diverte diffondere questo tipo di arte, discuterne, parlarne e trovare anche pareri che mi possano consigliare cosa leggere e cosa non leggere. Io vi dico, uso varie volte da un po' di tempo YouTube appunto per informarmi tramite altri canali, magari un giorno vi dirò, sulle nuove uscite, su quali sono i pareri che alcuni intenditori danno su determinati fumetti. Io non è che mi reputo intenditore a particolare, io sono solo un appassionato, ne ho letti tanti, ritengo che ne ho ancora una valanga da leggere o a volte in certi periodi sono più i fumetti che compro che quelli che riesco effettivamente a leggere anche perché poi il tempo è quello che è, per cui io ogni tanto mi metto qua davanti a una telecamera, vi faccio una recensione di un fumetto che secondo me è particolarmente meritevole, appunto per conoscere un personaggio, per divertirsi, per passare una bella ora. E il fumetto che recensisco oggi è Flash Zagor e adesso vi spiego il perché, il perché mi metto a recensire questo fumetto di cui adesso vi faccio vedere un attimo qualche disegno, colori, ci sono c'è dentro una storia di Flash, storia di Zagor, insomma adesso vi faccio un ragionamento. Io perché vi sto facendo questa recensione? Perché secondo me l'idea di mettere assieme a Zagor e Flash è un'idea interessante. Non lo reputo questo fumetto un super fumetto, vi dico la verità, però lo reputo molto interessante, lo reputo interessante però pensavo questo, pensavo che questo fumetto contenesse una storia completa dove Flash e Zagor collaborassero in qualcosa. In realtà questo è un numero unico, dove c'è una un'introduzione, e a me quando ci sono introduzioni anche biografiche sulla storia dei vari personaggi mi diverto un sacco a leggerle, parlo di queste premesse che in qualche fumetto ci sono, soprattutto nelle edizioni speciali. Ecco, questa storia parte con una storia dove sembra che Zagor e Flash alla fine confluiscano verso un unico obiettivo, diciamo così, ma poi in realtà al suo interno ci sono due ristampe particolari, una di Flash, una di Zagor, dove raccontano storie godibilissime, ma che in realtà si discostano un po' dalla premessa, ecco, diciamo così. Secondo me è stato fatto questo, magari mi sbaglio, adesso, ripeto, non è che voglio avere la presunzione di saper di saper tutto o di aver capito tutto, però secondo me è quello, l'intenzione è quella di far conoscere il fumetto Zagor a quelli che generalmente comprano Flash e i supereroi e viceversa. Quindi è un po' un tentativo di mettere a conoscenza, mettere a contatto due mercati, secondo me, che non sempre si toccano, mercati di lettori che privilegiano i Bonelli da una parte e dall'altra i supereroi e quindi secondo me facendo un fumetto dove in realtà si tocca sia il supereroe che il supereroe Bonelli, cioè due mondi, due mondi differenti, si toccano, è un po' un tentativo quindi di incrementare i lettori in questo modo, cioè fare in modo che coloro che leggono sempre i supereroi magari iniziano a leggere anche Zagor, quelli che leggono sempre Zagor magari si appassionano un po' di supereroi, io l'ho vista un po' così. Però ritengo comunque che questo tipo di idea si possa sviluppare, incrementare, perché è interessante avere a contatto due supereroi di questo tipo. Sarebbe secondo me interessante una storia complessiva, diciamo così, dove i due supereroi, Flash e Zagor, si mettono insieme verso un... oppure anche inizialmente potrebbero anche essere antagonisti, non so, poi il tram andrebbe costruito, però comunque che alla fine ci sia una storia complessiva che sia costruita dove all'interno ci siano le caratteristiche sia di Zagor che di Flash. Letta così l'ho vista un po' come una ristampa, eccetera. Detto questo, secondo me questo fumetto è stato un fumetto molto interessante, so che oltre a Flash e Zagor ce ne sono anche altri di questo tipo e secondo me da quello che ho capito c'è in cantiere ancora qualcosa, comunque io sto a vedere. A me capita molte volte di comprare anche in ritardo questi fumetti, però vediamo. Per ora ho comprato questo, me lo sono letto e me lo sono goduto e quindi alla prossima.